E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questa nuova recensione, sigla! Ed eccoci qui con un action figure del 2018, uscita qui in Italia nel 2019 per la linea SH Figures dedicata ad Harry Potter. Abbiamo il miglior amico di Harry, ovvero Ron Weasley. Eccolo qui nella sua confezione, molto carina, praticamente identica a quella di Harry. Qui cambia soltanto che c'è scritto il nome di Ron. Qui sul lato vediamo appunto sempre il nome Ron Weasley con questa bellissima rilegatura in stile libro. Qui sul retro vediamo un po' di pose appunto della nostra figure. Qui sul lato vediamo uno zoom su questo volto, veramente fantastico, non vedo l'ora di vederlo. Questa è la parte superiore, questa qui è la parte inferiore. Vi ricordo che se foste interessati all'acquisto di questa figure potete trovarla nel mio sito Aras Views Shop nella scheda in alto. Oppure qui sotto in descrizione sempre se non è già esaurita. Acquistata da me ovviamente mi aiuteresse veramente tantissimo. Ma non perdiamo un tempo sulla confezione e andiamo subito a vedere la nostra figure fuori da essa. Oh ed ecco qui il nostro Ron Weasley e tutti i suoi accessori fuori dalla confezione. Come vedete sono un buon numero. Devo dire che non mi aspettavo l'inclusione della scopa, pensavo l'avessero messa solo in Henry. Comunque andiamo subito a vederli nel dettaglio. Queste qui sono le prime due mani intercambiabili. Come vedete servono ad impugnare la bacchetta. Poi abbiamo queste altre due invece per impugnare la scopa. E per finire abbiamo queste altre due per impugnare invece i libri. Eccole qua, anche queste comunque ben realizzate. Come altri accessori abbiamo appunto questi libri, anche questi ben fatti, ovviamente sono tutti attaccati, non si possono separare. Peccato che magari non ci sia qualche scritta sopra. Abbiamo l'immancabile bacchetta, anche questa comunque ben realizzata, molto semplice. C'è il topolino crosta, eccolo qua. Guardate qua che spettacolo, anche sfumature di colore sul pelo veramente fantastico. Il painting sul nasino rosa e anche le zampette sono fatte molto molto bene, così come anche la coda. Ed ecco qui la scopa ragazzi. Anche questa molto molto ben fatta. Guardiamo la parte finale, vede con sfumature di colore su questo marrone molto chiaro. E qui vediamo il manico della scopa che è questo legno non troppo regolare. Si vede che non è figa come la Nimbus 2000 di Henry. E ultimo, ma non ultimo, accessorio è questo viso intercambiabile. Guardate qua, è veramente impressionante. Questa tecnica che utilizza Bandai sta migliorando sempre di più. La somiglianza con l'attore Rupert Grint è qualcosa di incredibile. L'espressione di questo viso è fantastica. Guardate là gli occhi quanto sono fatti bene in particolare. Tra l'altro lo sto zoomando tantissimo e la stampa non è per niente sgranata come è capitato in passato. Ed eccoci qua ragazzi, finalmente sulla figure. Ecco qui il viso, guardate che spettacolo. Anche questa espressione fantastica di questo sorriso un pochino ebete di questo personaggio che comunque è molto molto simpatico. Anche qui la somiglianza è qualcosa di veramente impressionante. Guardate qui anche di profilo è perfetta. Guardate anche i capelli come sono stati realizzati bene con questo marrone chiaro di base. Con tutte, vedete, le sfumature di marrone più scure ad accentuarne tutti i dettagli. Veramente qualcosa di fenomenale. Forse ancora meglio della figure di Harry. Ecco qui anche la parte posteriore. Anche questa molto molto ben fatta ragazzi. Per il resto vediamo l'outfit con la solita tunica nera appunto di Hogwarts. Con il simbolo di Grifondoro. Qui fatto veramente bene. Stampato ovviamente. Qui vediamo l'outfit sottostante. Peccato che non abbiano incluso delle braccia intercambiabili per poter rimuovere la tunica e appunto farlo restare semplicemente con il maglioncino sottostante. Qui vediamo comunque i pantaloni anche questi ben realizzati. E poi abbiamo le scarpe. Eccole qui nere. Nessun painting però dettagli fatti bene con i lacci. Vedete anche ulteriori dettagli. Anche la suola delle scarpe devo dire è ben fatta. Questa qui è la parte posteriore della tunica con il cappuccio. E a proposito di tunica ragazzi mi ero clamorosamente scordato un accessorio. Cioè questa la tunica svolazzante. Proprio come abbiamo visto in Harry. Si vede che con le tasse sto perdendo colpi. Ora andiamo a vedere le articolazioni di questa figura. Abbiamo la stessa che può guardare verso l'alto fino qui. Può guardare verso il basso molto meglio fino qui. Aiutata anche dall'articolazione alla base del collo. Sempre a sfera. Può muoversi lateralmente in questo modo. E può naturalmente ruotare lateralmente in questo modo. L'apertura delle braccia va oltre i 90 gradi. Fino qui la rotazione a 360 gradi è ovviamente obbligatoria. Abbiamo anche la rotazione qui al bicipite. C'è una leggerissima butterfly joint che permette al braccio di andare in avanti fino qui. C'è il piegamento qui al gomito. Comunque funzionale è anche bello da vedere. Comunque c'è la continuazione della tunica. E poi abbiamo il piegamento qui al polso e la rotazione al polso. A mezzo busto abbiamo il piegamento in avanti fino qui. Qui il piegamento è anche all'indietro però ovviamente la tunica limita un po' il movimento. Almeno questa versione della tunica. Alla vita c'è la rotazione. C'è anche il piegamento in avanti e indietro. E piegamento laterale in questo modo. Per quanto riguarda le gambe abbiamo l'apertura laterale fino a qui. Comunque un buon raggio. C'è naturalmente il movimento in avanti in questo modo. A 90 gradi senza problemi. C'è la rotazione qui alla parte superiore. Abbiamo l'articolazione di piegamento al ginocchio. Comunque neanche troppo brutta da vedere alla fine. E' molto funzionale. Poi abbiamo il piegamento del piede in su. In questo modo in su è una parola grossa. Va semplicemente fino qui per via del pantalone. Il piegamento invece in giù è molto meglio. C'è la rotazione laterale della caviglia in questo modo. E rotazione laterale del piede in questo modo. Nonché piegamento anche alla punta del piede. Questo qui con un raggio veramente ottimo. E ora ragazzi andiamo a misurare l'altezza di questa figure. Siamo praticamente sui 12 centimetri. Ovvero 4 pollici e mezzo. Qualcosina in più. 4 pollici e 75. Eccola qui a paragone del Vegeta Blue SH Figures. Come vedete risulta più basso. Eccola qui con una figure classica in scala 6 pollici. Ovvero il Pizza Spider-Man Marvel Legends. Ed eccola qui con il mitico Monnezza Spider-Man. Che risulta a dir poco un gigante. A confronto di questo Ron. Detto questo ragazzi. La mia recensione finisce qui. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa figure di Ron Weasley. Con un commento qui sotto. Secondo me Bandai sta facendo veramente un lavorone. Con questa serie di Harry Potter. Lasciate anche il like. Se questo video vi è piaciuto. E se volete supportarmi. Potete anche condividerlo. Vi ricordo che per acquistare questo. O tante altre action figure. C'è sempre il mio sito. Aras e YouTube Shop nella scheda lì in alto. Oppure qui sotto in descrizione. Detto questo grazie a tutti per la visione. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao Dara da Ron Weasley. E collezionate sempre.